Ciao, oggi non farò una recensione, ma come ringraziamento per essere iscritti al mio canale, vi voglio offrire dei codici sconto su alcuni prodotti in vendita su Amazon, alcuni di questi codici arrivano sino al 50% di sconto sull'acquisto del prodotto, i link dei prodotti e di relativi codici sconto, li trovate sotto, mostra altro nella descrizione del video. Spero di aver fatto cosa gradita, buona giornata a tutti.